Mario, c'è un ospedale, ah no ma aspetta io ce l'ho un ospedale, snella, snella scusami, credo di avere portato l'ospedale, grazie, meno male se non avessi te. Allora, pubblico, aiutatemi tutti quanti insieme, abbiamo imparato una formula magica, bollicina, bastone magico, mani avanti, mani indietro, rullo di tamburi, magia, magia. Wow, che c'è? Scusa, lo so, lo so, lo so, guarda che percubico che c'è, guarda, guarda che sono belli, siamo al Serena Majestic, ricordi? Era l'anno 2010, eh? Giravamo tra gli ombrelloni, facevamo la forza. Allora, per chi non la conoscesse, bollicina è una colomba magica.